eccoci qua eccoci qua amici giallorossi benvenuti in questo nuovo video allora inauguro una serie di video che farò da qui a qualche giorno e insieme valuteremo società allenatore e giocatori della roma di quest'anno della stagione appena conclusa e traremo le nostre conclusioni faremo le nostre valutazioni insieme vi invito quindi a commentare poi i video a mettere i like e soprattutto a iscrivervi al mio canale di zona giallorossa oggi parliamo della società facciamo un resoconto di questo quasi primo anno dei frittkin a roma e valutiamo il loro operato e tutto quello che hanno fatto bisogna fare una premessa però loro sarebbero dovuti arrivare a marzo dell'anno scorso poi sappiamo tutti quello che è successo lo scoppio della pandemia tutto che si è fermato tutto che comunque è stato messo in quarantena tutte le attività tutte le scuole e compagnia bella per cui la società e i fritti hanno potuto acquisire il pacchetto azionale della roma soltanto a metà di agosto quindi notevolmente ritardo sui loro programmi questo ha fatto sì ragazzi che non ha non hanno potuto fare quella rivoluzione che secondo me avrebbero già fatto l'anno scorso se fossero arrivati a marzo e quindi si sono trovati nella situazione comunque a un mese da inizio del campionato di di confermare tutto e per tutto l'enturace della roma di confermare l'allenatore che per me è stato un signore fonseca come allenatore come uomo perché secondo me se loro fossero arrivati a marzo fonseca sarebbe stato subito rimosso dall'incarico e loro avrebbero subito puntato su un top che a questo punto credo for sarebbe stato allegri questo non è accaduto abbiamo dovuto continuare con fonseca perché non c'erano i tempi tecnici per cambiare allenatore soprattutto per fare mercato un mercato che comunque per tutte le società quello di l'anno scorso è stato un mercato a risparmio per le gravissime perdite causate dalla pandemia che hanno avuto le società visto i mancati introviti delle di voi mancati introviti degli spettatori sponsorizzazione pubblicità e compagnia bella per cui i ragazzi la stagione come avevano detto anche i fritti che ne inizio avevano dichiarato che sarebbe stata una stagione di transizione perché poi il vero primo anno dei fritti che come tutti noi tifosi romanisti avevamo comunque preventivato sarebbe stato questo che è iniziato che sta per iniziare adesso a giugno tenete presente che i fritti che hanno comprato la roma in un periodo in cui nessuno avrebbe investito soldi nel calcio visto la crisi finanziaria che stava attraversando praticamente tutto il mondo hanno cominciato comunque a risanare i bilanci perché la roma era in forte perdita ci hanno salvato praticamente da un fallimento quasi certo che sarebbe avvenuto quest'anno a mio modo di vedere e comunque e comunque nel primo mercato che loro hanno svolto hanno comunque preso un maiorale che si è poi che ha fatto la sua onesta stagione comunque 18 gol in campionato 10 nel campionato 8 in europa league capocannoniere è un'ottima stagione per un giocatore che è arrivato con molto scetticismo abbiamo ripreso smalling anche se purtroppo il giocatore quest'anno ha giocato pochissimo per i tanti infortuni che ha avuto abbiamo preso pedro anche se pedro era un acquisto della vecchia proprietà e abbiamo acquistato con bulla che comunque era considerato uno dei difensori più interessanti del panorama italiano in quel periodo dell'anno scorso anche se poi effettivamente il giocatore ha un po deluso ma è giovanissimo ragazzi per cui bisogna attenderlo poi a gennaio acquistarono il dono di esharawi anche lui tante difficoltà perché praticamente veniva da tanti anni da un paio d'anni in cina dove sicuramente non si è allenato nel modo migliore e abbiamo preso questo reynolds e chiaramente ragazzi 19 anni proveniente dal dal campionato statunitense non potevamo non potevamo assolutamente pretendere che potesse fare subito la differenza un giocatore che va aspettato che va allenato che va comunque valutato nell'anno prossimo i fritti comunque hanno ingaggiato diaco pinto come team manager hanno mandato via tante mele marce all'interno di dragoria vini baldissoni e compagnia bella abbiamo avuto problemi di gestione infatti sono andati via anche zubiria se non ricordo male ed altri dirigenti come il longo che ci fece perdere quel punto di verona con l'inserimento di diavara nella lista sbagliata è stato mandato via anche responsabile poi di quella cosa assurda era successo in coppa italia con lo spezia i sei campi che poi hanno portato lo 0 3 e comunque hanno diminuito il monte ingaggi del 15 per cento cercando di piazzare tutti quei giocatori in esubero che la roma pesava sul bilancio e che non erano più in grado di sostenere il progetto roma quindi i vari con la lonna che andato al granata i vari zonzi che è andata a renne che però adesso dovrebbe tornare alla base e clivert all'ipsia che dovrebbe comunque essere confermata all'ipsia under all'eister vedremo cosa succederà quindi hanno cercato poi comunque coloro vennato all'inter olsen è andato all'everton hanno cercato comunque di levarsi tutti quegli giocatori ormai che non facevano più parte del progettore ma hanno diminuito il monte ingaggi del 15 per cento e poi ragazzi hanno dato la bomba a fine stagione del dell'arrivo di murigno il che vuol dire investimenti sul mercato il che vuol dire nei prossimi tre anni cercare di vincere qualcosa il che vuol dire che la roma deve tornare ai vertici del calcio italiano e che comunque c'è una progettazione seria mirata a far vincere la roma e a farla diventare una società e una squadra di altissimo livello e questo ragazzi è una cosa che a noi tifosi aspettavamo da tempo e che pallotta non aveva mai mai non era mai riuscito a prendere un allenatore veramente veramente di livello per tutti questi discorsi ragazzi per tutto quello di cui abbiamo parlato adesso anche se la roma quest'anno comunque non ha fornito assolutamente una stagione buona perché abbiamo peggiorato il cammino in campionato arrivando settimi l'anno scorso avevamo i quinti non abbiamo comunque non siamo arrivati in champions in europa league faremo questa conference in coppa italia abbiamo fatto quella brutta figura con lo spezia in europa league siamo arrivati in semifinale poi abbiamo buttato tutto con quel secondo tempo sciaturato di manchester dove veramente c'è da mangiarsi le mani intanto complimenti a via reale che ha vinto l'europa league per tutti questi faccendi anche tutte queste faccendi io ai fritti che si sono rivelati veramente delle persone serie attente concentrate professionali e che sono stati sempre a roma a seguire la squadra io do per il loro primo anno nonostante tutte le difficoltà la pandemia e i problemi della roma di bilancio e compagnia bella io do un 7 perché hanno veramente dimostrato di voler prendere la roma di voler far crescere la roma di volerla riportare ai massimi livelli con appunto l'ingaggio di murino adesso ci si aspetta sicuramente da parte loro un mercato importante per far sì che la roma l'anno prossimo possa tranquillamente giocarsi le sue chance per andare in champions league e giocarsi le sue chance naturalmente in coppa italia e in conference ragazzi questo era il primo video per analizzare la stagione della roma abbiamo dato il voto alla società fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale tanti like e ci sentiamo nei prossimi giorni per continuare la nostra la nostre valutazioni sulla stagione della roma nel prossimo video parleremo dell'allenatore e di fonseca parleremo dell'allenatore e di fonseca